L'Europa si è accorta di quanto sia importante la salute e la farmaceutica, lo abbiamo visto dolorosamente, chiaramente con la pandemia, e quindi stiamo cercando di avere da un lato più innovazione e più competitività, anche un'autonomia strategica che finora non abbiamo avuto, perché dipendiamo da altri paesi per le terre rare, per tutto quello che serve a produrre farmaci, con impatti negativi, soprattutto una carenza di farmaci che ha toccato il nostro paese, ma tocca moltissimi paesi europei, e quindi vogliamo andare nella direzione di una maggiore competitività industriale, ma al tempo stesso anche di una industria farmaceutica e di una unione della salute che non lascia indietro nessuno, che sia più sociale e dove i farmaci siano accessibili per tutti. Pubblico e privato devono convivere, ma quando si tratta di salute pubblica chiaramente ci devono essere anche delle garanzie in più, non possiamo lasciare tutto appunto soltanto al libero gioco del mercato e questo secondo me sarà un esercizio in futuro sempre più importante per andare a trovare dei punti di caduta e degli asset di interazione tra pubblico e privato che possano portare benefici a tutti. In un contesto, ricordiamocelo, dove purtroppo ci sono i deserti medici e i deserti sanitari che sono sempre maggiori anche nel nostro paese.